Abbiamo chiuso parlando di un musicista olandese. Riapriamo con un altro suo conterraneo, nonché allievo e collaboratore. Jan van der Roost, prolifico compositore di musica di tutti i generi e per qualsiasi formazione musicale. Arsenal è una marcia da concerto in stile inglese imperiale, arricchita da quel particolare stile musicale di van der Roost. Questo brano è stato dedicato dal compositore al direttore della banda musicale di Mechelen, nel Belgio, in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione. A voi, Arsenal, dirige il maestro Ignazio Pilloni. Grazie. 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 Grazie.